Però, volevo dire che sembri un'emoroide perché hai una cosa in testa. Venti là, sembri più brutti. È bruttissimo, stress, è veramente terribile. Non riesco a fare le puzzette a comando. È impossibile, eh. È proprio brutto. E poi abbiamo Giorgia, che fa schifo pure un'emoroide. Ciao, amici. Io ho sentito un brutto rumore che veniva da quel coso lì. No, stavolta... Eri tu parlando. Addirittura, però non faccio odore come fa lui. No, ragazzi, non è al caramello. Odore a chi? Il regatto è di cacca, non è di caramello, non confondete. No, il caramello è buono. No, ho letto caramello, ora leggerò sempre caramello. No, sei di cacca. Caramello di mucca, che viene da un'altra parte. Caccamello. Che schifo! Eh? Cagazzo. Ma mi sa che tu ti sei dimenticato una persona. Eh sì, Alex. Guarda là. L'ho fatto apposta. Sembrano due fanali quegli occhi, che si stanno scrutando. Non fa vedere il bikini, se fa vedere il bikini lo sposto.